Ma buongiorno, benvenuti, bentornati, in un nuovo episodio del nostro podcast dedicato a X Factor 2024 con quello che, secondo me, è l'ultimo dei nomi che dovevo toccare per parlarvi dei potenziali vincitori di X Factor di quest'anno. Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi, ehi, ehi! Come andiamo, amici di Kiwi? Tutto bene? Come vi dicevo con Mimì, chiudo quello che è il cerchio di quei quattro, quattro o cinque nomi, insomma, di quelli che sono i potenziali vincitori per me, che arriveranno fino alla fine. Lei, Lorenzo Salvetti, francamente, il Evotiv e... basta, credo, non mi viene in mente niente da nessun altro, poi magari mi viene in mente dopo. Ma andiamo al concreto di Mimì Caruso e che è tempo di parlare di lei. A soli 17 anni, questa giovane cantante italiana originaria del Mali e adottata a soli otto mesi, sta conquistando tutti con la sua voce potente ed emozionante, dimostrando di essere una delle promesse più luminose di questa stagione. Cresciuta a Usmate Velate, in provincia di Monzebrianza, neanche troppo lontano da me, tra l'altro. Cazzo di no... Usmate Velate, di quei nomi di posti che... Madonna che brutti! Però vabbè, la provincia intorno a Milano diciamo che non è che offre grandissimi spunti. I nomi non ve lo dico neanche. Usmate Velate, Segrate, Gallarate, Vignate, Legnate... No, quelle sono quelle che ti prendi la sera quando vai in giro con i gioielli addosso. Vabbè, facciamo sta che è meglio. Mimì ha sviluppato fin da piccola una passione per la musica, influenzata dalla madre pianista. Che culo! Quanto vi invidio! Che culo vi avete, madonna! Vabbè, comunque, prima di approdare a X-Factor, si è esibita in vari eventi locali, ha partecipato a concorsi come il Fantastico Festival, che ha vinto nel 2023, di cui io non ho mai sentito parlare, ma vabbè. Sempre nello stesso anno, Mimì ha tentato le selezioni di Sanremo Giovani con un inedito intitolato Mirubil Time. Poi, chiaramente, non l'ha passato, anche perché se no il nome già ce lo ricorderemmo peraltro. Il suo percorso a X-Factor 2024, invece, è stato un crescendo di emozioni. Fin dalle audizioni, Mimì ha impressionato i giudici con una toccante interpretazione di figures di Jesse Reitz, che sono certo di aver pronunciato in maniera indecente, ma passiamo oltre. Che le è valsa l'X-Pass di Manuel Agnelli. Ai Bootcamp poi ha portato Godspeed di Frank Ocean, con cui ha confermato il suo straordinario talento, conquistando un posto nella squadra di Manuel. Agli on-visit si è cimentata in Earthquake di Tyler the Creator, dimostrando una notevole profondità artistica e guadagnandosi l'accesso ai live show. Vari e vari elogi di Agnelli, che comunque mica male. Durante i live show, Mimì ha mostrato una maturità vocale e interpretativa piuttosto lodevole, per la sua età in particolar modo. Al primo e secondo live ha presentato rispettivamente Don't Beat the Girl Out of My Boy di Anna Calvi e Something on Your Mind di Karen Dalton, ricevendo elogi per la sua intensività emotiva. Nell'ultimo live, Mimì ha alzato ulteriormente il livello con una personalissima interpretazione di La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Grande scelta, grandissima. Dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici, con uno stile molto toccante. La performance di ieri è stata una delle migliori della serata e probabilmente di questa edizione di X-Factor. Per la prima volta, Mimì ha affrontato un brano in italiano e con il capolavoro di Lucio Dalla ha regalato un'esibizione indimenticabile, dimostrando una padronanza vocale interpretativa piuttosto lodevole. Anche in questo caso, eh, che dì straordinaria, dai! Manuel Agnelli, riportandola nella sua zona di comfort, ha permesso a Mimì di esprimersi al meglio, regalando al pubblico una performance che ha alzato l'asticella del quarto live. Come ha detto, peraltro, Manuel, il viaggio è stato lungo, ma Mimì è tornata più forte di prima, pronta a continuare a stupire. Ora, attenzione tutta sul suo inedito, che ascolteremo dalla prossima puntata, e dopo un percorso così intenso e ricco di emozioni, le aspettative sono non poco alte, ma veramente è dura, è dura da reggere. Sarà sicuramente molto pressante da vivere per lei stessa. Ce lo chiediamo tutti a questo punto. Riuscirà Mimì a confermare il suo straordinario talento anche con un suo progetto? Perché è qua che il gioco si fa veramente interessante. Sapete come la penso riguardo agli inediti? Se vi siete sentiti gli altri episodi dedicati a X-Factor e ai, appunto, i nomi papabili, è qua. È qua con l'inedito, che io spero sia in italiano, lo dico anche stavolta, che ci giochiamo veramente la valutazione su questi artisti. Non vedo l'ora. Come sempre, vi invito a restare con noi per scoprire cosa ci riserverà questa giovane artista dal futuro promettente. Dai!